Combattere fino alla fine anche se il verdetto è negativo. L'Umana Reier Venezia inaugura l'anno con una sconfitta interna nell'anticipo della quattordicesima giornata del massimo campionato di basket, ma si merita l'ovazione finale degli oltre 3.500 spettatori che hanno riempito il tagliercio di mestre. Sconfitta meritata per gli Oro Granata al cospetto di una Sassari che non ha sbagliato praticamente nulla, conducendo sempre nel punteggio e costringendo la squadra di casa a rincorrere per l'intero svolgimento del match. Molti gli acciaccati tra gli uomini di Walter De Raffaele, che ancora non può contare sul migliore Tonut e che ha dovuto far fronte alle precarie condizioni di Filoi, pur se può vantare il miglior marcatore del confronto, Ejim, autore di 17 punti. Nulla è compromesso, certo, anche se raggiungere Milano in vetta, pur in attesa del resto delle gare del turno di campionato, sarebbe stata una bella emozione per inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno. Intanto Avellino, aggiudicandosi l'altro anticipo, ha agganciato a quota 20 i lagunari, attesi mercoledì alle 18.30 dalla trasferta di Champions League sul parquet degli israeliani del Maccabi Rand Media. Si è interrotta a 13 la serie positiva della Reier tra campionato e Coppa. Ora si tratta di ricominciare senza affanni. La squadra c'è, si è battuta fino alla fine contro un impeccabile sassari, dicevamo, quindi i tifosi oro-granata possono stare tranquilli. Già dalla trasferta continentale Perici e compagni sanno di poter e dover rialzare la testa. Dura mantenere la stessa intensità giocando ogni 3-4 giorni, ma questo è il destino di realtà ambiziose come appunto la Reier Venezia 2016-2017. Attesa poi sabato alle 20.30, nell'anticipo della quindicesima del massimo campionato dalla delicata trasferta di Brindisi e l'avventura non può che continuare.